va ora in onda radio speranza notizie a cura della redazione giornalistica un cordiale buongiorno da benedetta pisano ben ritrovati oggi è venerdì 31 maggio e la chiesa cattolica ricorda la visitazione della beata vergine maria ieri mattina il presidente della giunta regionale marco marsilio ha partecipato al taglio del nastro della ventottesima edizione di cartoons on the bay il festival internazionale dell'animazione televisiva cinematografica e cross mediale che questa mattina ha aperto i battenti all'aurum di pescara e proseguirà fino a domenica 2 giugno al fianco del presidente marsilio c'era l'assessore al bilancio mario quaglieri mentre come nelle precedenti edizioni a fare gli onori di casa è stato il direttore artistico di cartoons on the bay roberto genovesi di prestigio anche la presenza del presidente di rai com claudia mazzola ascoltiamo le parole del presidente marsilio una bellissima iniziativa che permette all'abruzzo di diventare punto di riferimento della cinematografia di una parte importante della cinematografia che è quella di animazione quella rivolta che non è rivolta soltanto ai bambini perché il cinema di animazione il cinema fantasy il cinema transmediale come lo chiamano ogni anno le definizioni cambiano perché comunque un settore in grande e continua evoluzione molto dinamico è oggi la ossatura portante del fatturato dell'industria cinematografica e certe tipologie di film come quelle ispirate ai supereroi o al cinema appunto ispirato dalla letteratura fantasy viene visto a tutte da tutte le età in tutte le generazioni e non soltanto perché i nonni o i genitori accompagnano i bambini al cinema certe opere sono capolavori opere d'arte che hanno ormai da tempo conquistato questa dignità a pieno titolo ed essere sede come regione abruzzo città di pescara nell'edizione estiva e la città dell'aquila nell'edizione invernale di una fiera mercato di livello internazionale è un grande traguardo l'abruzzo investe vuole continuare ad investire sul cinema e sulla promozione che il cinema può dare l'obiettivo è quello di una sanità più funzionale vicina ai cittadini e che non produca un debito che porterebbe a situazioni critiche questi i temi della riunione che si è svolta ieri pomeriggio nella sede della regione abruzzo in piazza unione a pescara un incontro voluto dal presidente marsilio e dall'assessore alla sanità nicoletta veri a cui hanno partecipato i vertici delle quattro asa abruzzesi direttori generali amministrativi e sanitari il responsabile del dipartimento sanità claudio damario e il direttore dell'agenzia sanitaria pierluigi cosenza l'impegno comune che è stato riaffermato è quello di individuare modelli virtuosi per rendere la sanità abruzzese moderna efficace attraverso un piano di efficientamento capace di contenerne i costi nei limiti dei bilanci assegnati garantendo nello stesso tempo la qualità del servizio e l'erogazione dei LEA un monitoraggio costante con appositi strumenti di controllo garantirebbe il miglioramento dei servizi a cominciare dalle liste di attesa obiettivo dell'amministrazione marsilio è quello di ridurre i tempi di attesa delle diverse prestazioni attraverso un cruscotto che in tempo reale offra il quadro della situazione per migliorare i servizi è stata avanzata la proposta di aumentare le prestazioni interne alla ASL lavorando dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 22 un aumento degli slot con particolare riguardo alla diagnostica una maggiore trasparenza garantirebbe interventi di correzione in tempo reale fino ad ipotizzare il blocco delle prestazioni intramenia quando le liste di attesa vengono bloccate tra gli obiettivi da mettere in cassaforte c'è quello di contrastare la mobilità passiva soprattutto quella di prossimità garantendo la presenza di medici qualificati capaci di attrarre i pazienti non solo all'interno della nostra regione ma anche da fuori e a tal proposito è stato anche affrontato il tema degli accordi di confine con diverse regioni ormai prossimi alla conclusione si intitola la cura multidisciplinare per i pazienti con malattia di Parkinson nel secondo congresso nazionale del Mirk Park Project che avrà luogo sabato 1 giugno a partire dalle ore 9 presso la sala conveni del centro adriatico sul lungomare Giovanni XXIII 55 a Pescara infatti la fondazione Paolo VI è uno dei 10 centri di riabilitazione che in Italia sono affiliati a questo innovativo approccio riabilitativo multidisciplinare rivolto ai pazienti affetti dalla malattia del Parkinson e Parkinsonismi chiamato appunto MIRT ideato e presieduto dal dottor Giuseppe Frazzitta, neurologo e neuro-riabilitatore con questo appuntamento creeremo una vetrina, spiega l'esperto per i pazienti infatti la speranza è che sul territorio nazionale esistono dei centri multidisciplinari che permettono di affrontare questa tipologia nella maniera corretta la malattia del Parkinson non è una patologia che si può affrontare solo con i farmaci o solo con la riabilitazione soltanto un gruppo di professionisti possono combatterla insieme rendendo questa malattia facilmente affrontabile sarà proprio il dottor Ora Frazzitta dopo i saluti delle autorità tra cui spiccano il presidente della fondazione Paolo VI l'avvocato Peppino Polidori e la direttrice generale la dottoressa Enisa Di Tiglio e l'arcivescovo di Pescara Penne il signor Tommaso Valentinetti a tenere la relazione introduttiva dal tema l'approccio multidisciplinare della malattia del Parkinson perché in seguito sarà la dottoressa Carla Yerlori neurologa e neuro-riabilitatrice della fondazione Paolo VI di Pescara nonché del MIRT Park Project centro MIRT di Pescara a tenere la relazione sul tema un anno di attività MIRT nella fondazione Paolo VI quindi interverranno la fisioterapista Savina Di Michele sul tema i benefici dell'intervento riabilitativo sul controllo del tronco e le logopediste Francesca Nasuti e Sabina Corbo che parleranno delle strategie di intervento sulla comunicazione e deglutizione all'interno del progetto MIRT nella seconda parte della mattinata si susseguiranno poi le relazioni dei centri MIRT di Livorno, Brescia, Valmorea, Torino, Traona, Mestre Venezia e PV Kerr Stradella mentre dalle 14.30 alle 17.30 ci sarà l'incontro dei centri MIRT partono ufficialmente sabato 6 luglio 2024 i saldi di fine stagione estiva il Via Libera è arrivato ieri mattina al termine della riunione di consultazione che i tecnici della regione Abruzzo hanno avuto con le associazioni di categoria regionali l'indicazione del 6 luglio è in linea con quanto stabilito a livello nazionale dalla Commissione Commercio della Conferenza Nazionale è il caso di ricordare che il commerciante che intenda promuovere i saldi nel proprio esercizio deve darne comunicazione allo sportello unico delle attività produttive il swap del comune nel quale assede l'esercizio commerciale l'assessore alle attività produttive della regione Abruzzo Tiziana Magnacca ha concordato di convocare un ulteriore tavolo di confronto al fine di verificare la data dei saldi invernali rispetto a quanto indicato a livello nazionale l'Imago Museum è lieto di annunciare l'avvio di Estati d'Arte un innovativo campus estivo dedicato ai bambini da 6 ai 10 anni desiderosi di immergersi nell'affascinante mondo dell'arte moderna e contemporanea l'iniziativa promossa dalla Fondazione Pescara Abruzzo si svolgerà nei mesi di giugno e luglio 2024 con l'obiettivo di stimolare la creatività e la curiosità dei più giovani gli incontri saranno per un massimo di 15 bambini sia per la sessione di giugno sia per quella di luglio grazie alla collaborazione tra la Fondazione Pescara Abruzzo e le associazioni delle zone più periferiche di Pescara un terzo dei post disponibili sarà riservato alla partecipazione gratuita di bambini dei quartieri Madonna del Fuoco, Sandonato, Fontanelle e Zanni Poste Italiane comunica che in provincia di Pescara le pensioni del mese saranno regolarmente accreditate sabato 1 giugno primo giorno lavorativo o bancabile sia per coloro che hanno scelto l'accredito del rateo pensionistico sul conto corrente e banco posta sia per coloro che ritirano l'assegno in contanti presso Poste Italiane in tutta la provincia sono 70 gli uffici postali aperti anche nella giornata di sabato durante l'intera mattinata sempre a partire da sabato 1 giugno le pensioni del mese saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio o di una Poste Pay Evolution che abbiano scelto l'accredito i possessori di carta di debito associate a conti o libretti o di Poste Pay Evolution quindi potranno prelevare in contanti dai 60 TM postamat del territorio senza doversi quindi recare allo sportello inoltre i possessori di carta di debito associate a conti o libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all'anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM postamat per evitare assembramenti e tempi di attesa superiori alla media Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati ove è possibile di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi e ora siamo alle previsioni del tempo sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulla Marsica sull'Alto Sangro nell'Aquilano e sulle zone montuose che si affacciano ad ovest dove non si escludono rovesci sparsi cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sul settore adriatico con possibili ampie schiarite nel corso della giornata ad iniziare dalle zone interne in essenzione verso il Teramano il Pescarese e il Chietino poche novità nella giornata di sabato prevalenza di tempo stabile con cielo poco nuvoloso e possibili annuvolamenti sulle zone interne nel corso del pomeriggio sera temperature in aumento sul versante adriatico stazionarie sulle zone interne montuose venti moderati dai quadranti sud-occidentali con rinforzi sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico Garbino sul versante adriatico mentre il mare sarà poco mosso o localmente mosso questi erano i dati di Abruzzo Meteo e noi qui ci salutiamo buona giornata abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Radio Speranza Notizie Grazie a tutti